amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati come ogni lunedì noi partiamo con le analisi dei principali fatti di politica internazionale presento subito i miei ospiti benvenuto a giacomo gabellini ciao carlo ciao stefano buongiorno a tutti benvenuto a stefano orsi ciao stefano ciao carlo ciao giacomo ti vedo con una sciarpa nero lucido ci spieghi è una sciarpa che arriva dalla palestina da ebron ho capito e quindi è arrivata ricordare quello che sta succedendo certo quindi fortissimo valore simbolico oggi esattamente un capo dal grandissimo valore simbolico parleremo di palestina anche dopo direi giacomo partiamo con la situazione in particolare legata al conflitto in ucraina ma la situazione diciamo pesante che c'è tra gli stati uniti e l'unione europea perché l'unione europea in prospettiva del disimpegno degli stati uniti nel conflitto registra i giorni scorsi ecco una notizia che è passata molto molto sotto traccia più di 100 esponenti politici europei hanno inviato una lettera congiunta alle loro controparti ai loro colleghi degli stati uniti chiedendo al congresso di sbloccare ulteriori aiuti militari all'ucraina no in cui invece in un momento in cui i legislatori invece statunitensi hanno lottato per trovare un accordo per dirottarli da altre parti che vedremo adesso una situazione molto possiamo dire che l'unione europea molti esponenti dell'unione europea sono quasi nel panico ma direi proprio di sì mi hanno ben donde mi verrebbe da dire dopo tutto quello che hanno investito nel sostegno all'ucraina ricordiamo che lo scorso all'inizio di dicembre un paio di settimane fa il congresso ha bocciato il piano di diciamo sostegno collettivo che era stato predisposto dall'amministrazione biden da 106 miliardi di dollari che comprendeva quindi al suo interno sia aiuti a israele all'ucraina in gran parte circa 61 miliardi a taiwan e per andare contro incontro per accogliere le istanze dei repubblicani soprattutto dell'area trampiana un diversi miliardi di dollari per rafforzare le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina che penetra attraverso la porosa frontiera messicana se non che dopo una serie di discussioni questo questo piano non è stato non è stato approvato perché perché inizialmente mike johnson speaker della camera di stretta osservanza trampiana si era fatto portavoce delle delle rivendicazioni dalla parte della sua base repubblicana che chiedeva lo spacchettamento di questo piano d'aiuti per permettere al congresso di esprimersi in maniera separata di votare ciascuna questione separatamente dalle altre quindi un chiaro una chiara attribuzione di una diversa rilevanza alle varie ai vari ai vari dossier che erano sul tavolo insegnatamente si trattava di anteporre nella gerarchia dei delle priorità la il contrasto all'immigrazione clandestina subito alla pari più o meno rispetto al sostegno israele che come sappiamo per gli stati uniti è sempre una questione di politica interna quindi non verrà mai meno è solo molto dopo c'è il l'appoggio all'ucraina questo è un segnale piuttosto difficilmente equivocabile che si combina peraltro le rivelazioni di tucker carson che personaggio abbastanza noto direi arci noto che di recente ha basandosi su sue fonti dichiarato che c'era stato un tentativo in extremis del segretario della difesa lloyd austin di convincere i repubblicani più riottosi ad accogliere la proposta dell'amministrazione biden ha convocati diciamo prima in un incontro privato con loro gli avrebbe sostanzialmente minacciati avrebbe detto se non sbloccate questi fondi dedicati all'ucraina tra qualche anno si troveremo vi troverete a inviare i vostri figli vostri nipoti sul territorio europeo per combattere putin perché non si fermerà assolutamente l'ucraina arriverà in moldavia chissà dove altro solito spauracchio abbastanza vergognoso di lloyd austin che è un personaggio che voglio ricordare solo pochi mesi fa parlava di ottime chance dell'ucraina di condurre con successo la propria controffensiva davanti al congresso sotto giuramento qualcosa di cui chiedergli conto magari visto che si tratta anche di un militare un ex militare non esattamente uno sprovveduto quindi c'è un tentativo degli stati uniti di insomma di rivedere la propria la propria linea operativa rispetto rispetto all'ucraina un po' perché forse la coperta sta facendosi corta perché tu qui si stanno prendendo tutta una serie di di scenari e di fronti non ultimo dei quali quello del mar rosso con gli uti che bersagliano le navi navi commerciali militari nel mar rosso e quindi costringono tutta la le cargo mercantile a seguire una rotta che circunnaviga l'africa con tempi di percorrenza e costi enormemente superiori quindi c'è tutta una una serie di di questioni che eh obbligano gli stati uniti a eh ganciarsi o quantomeno ridimensionare il proprio impegno in alcuni settori che sono ritenuti o meno importanti o ormai irreparabili perché probabilmente la situazione sul campo in Ucraina è tale per cui un anche uno stanziamento eh di fondi più più cospicuo come quello che è stato messo in cantiere dagli stati uniti avrebbe magari prolungato l'agonia dello stato ucraino e eh permesso ai legislatori occidentali di sostenere che poi fin dei conti la partita non era persa e si assiste anche a un tentativo di cambio della narrazione no con una rimodulazione degli degli obiettivi che erano stati dichiarati all'inizio no per cui ricorderete che inizialmente l'obiettivo era non si tratta finché finché l'ultimo soldato russo non verrà cacciato dal dal territorio dell'Ucraina e adesso sentiamo Danilov assistente speciale di Zelensky dichiarare in un'intervista alla BBC che è già molto comunque che siamo riusciti a combattere per due anni e quindi c'è un cambio totale di narrazione si stanno riposizionando alla stragrande insomma è appunto un riposizionamento funzionale a preparare la strada a una mossa politica che consenta almeno questa è la loro la loro speranza di dire che il conflitto comunque non è stato perso ma è stato congelato un termine che va molto di moda ultimamente ma che secondo me non risponde minimamente all'andazzo sul campo di battaglia possiamo dire che anche quella è neolingua adesso il conflitto entra entra nella di diritto nella neolingua come le missioni di pace con le armi eccetera eccetera e poi quindi questa lettera degli europei che adesso si vede rifilata la potata bollente e di qui anche l'apertura all'Ucraina all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea l'avvio dell'inter burocratico che è una una bufala di una poi quale Ucraina cioè con quale sotto quale forma quale delimitazioni territoriali avrà quest'Ucraina che dovrebbe essere inclusa nell'Unione Europea si diceva fino a ieri ma ha ribadito anche Macron che non ci sono assolutamente i requisiti per poterla ammettere nell'Unione Europea bisognerebbe riformare tutte le procedure burocratiche i requisiti eccetera quindi non c'è c'è un tentativo anche qui di salvare il salvabile di minimizzare i danni e di cercare di non ammettere quello che è stato un fallimento su tutto il Giacomo senti ma Macron ha dichiarato appunto che non ci sono i presupposti anche da un punto di vista burocratico eccetera ma è la von der Leyen che l'altro giorno ha dichiarato che l'adesione di Kiev è una vittoria all'Unione Europea è una vittoria praticamente la data per certa come ti senti? Come dicevi tu prima ormai anche il concetto stesso di vittoria vediamo soggetto a una mutevolezza non indifferente perché così come l'Ucraina prima voleva cacciare i russi da ogni angolo del suo territorio adesso dice che è già molto essere riuscito a resistere per tutto questo tempo così la von der Leyen dice che adesso l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea rappresenta una vittoria una vittoria di chi e per come vorrei sapere cioè soprattutto qui si assiste come al solito agli Stati Uniti che scaricano la patata volente su qualcun altro molto semplicemente come dall'Afghanistan si sono ritirati nel 2021 senza dire niente a nessuno quindi piantando baracche burattini e lasciando senza nemmeno informare quelli che avevano contribuito all'operazione alle operazioni sul campo e adesso quindi si potrebbe profilare uno scenario mutatis mutandis consimilare rispetto a quello che c'era delineato in Afghanistan. Certo tra l'altro pochi minuti prima di iniziare la nostra intervista ho visto la notizia che per quanto riguarda i transiti per il Mar Rosso anche il colosso petrolifero BP e il colosso dei trasporti Evergreen hanno rinunciato alla rotta di navigazione appunto che transita per il Mar Rosso. Stefano ti lascio iniziare dal punto che preferisci visto i tanti punti toccati da Giacomo. La lettera dei deputati europei ben rappresenta lo stato di serenità con cui stanno vivendo l'attuale momento del conflitto. Perché scrivono una lettera, una supplica quasi ai loro colleghi congressisti statunitensi. Allora, innanzitutto sanno benissimo che l'Unione Europea ha grossi problemi di bilancio, ci sono contrasti enormi al suo interno per sapere dove attingere questi fondi, perché? Perché alcuni dicono deve farlo l'Unione Europea dalle proprie risorse e altri dicono che non sono sufficienti queste risorse, che pertanto i paesi devono mettere dell'oro, aggiungere dei soldi oltre a quello che già versano all'Unione Europea. E già qui i contrasti sono piuttosto accesi, tant'è che Orban si è uscito dall'aula per permettere l'avvio del negoziato che non è l'ingresso, però ha votato contro ai soldi 50 miliardi che dovevano andare all'Ucraina dall'Unione Europea. E quindi la supplica che cosa significa? Significa che noi non siamo in grado di sostenere economicamente e o militarmente l'Ucraina. Non potete tirarvi indietro? Primo. Non potete lasciarci così? Lasciarci non lasciano nessuno, lasciano al massimo l'Ucraina, sono cazzi loro alla fine delle fini, non sono mica i nostri parlamentari che si armano di moschetto. Cos'è che era? I badili? No, 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 no. I pale? No, 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 era un'altra cosa. Fezze, moschetto, europeista perfetto. Ah, ok, va bene. No, pensavo che dicessi agli armamenti della Russia. No, 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 no. I badili? No, era un riferimento agli autentici valori dell'Unione Europea, che nessuno cita mai nel dettaglio. I congressisti americani perché hanno votato contro? Perché sono già in piena campagna elettorale e qui c'è un fortissimo contrasto di interessi tra un'amministrazione Biden che si è legata strettamente agli esiti del conflitto ucraino perché ha giocato il tutto per tutto sperando di sconfiggere la Russia e sta perdendo e i repubblicani che sanno benissimo che di fronte a una sconfitta ucraina non ci sarà scusa per l'elettorato americano che tenga per giustificare la sconfitta. Perché? Perché l'elettorato americano è in maggioranza contrario all'invio di nuovi fondi di soldi americani vista la situazione economica all'interno degli Stati Uniti e questi repubblicani lo sanno bene e non accetterà come giustificazione della sconfitta ucraina il fatto che i repubblicani abbiano tenuto conto del fatto che non fosse utile mandare altri soldi visto il fallimento dell'offensiva estiva e tutti lo sapevano che fallita l'offensiva estiva non ci sarebbero stati probabilmente altri soldi e si sta avverando in pieno questa cosa, l'avevamo probabilmente anche detto. Ecco quindi che c'è un contrasto di interessi forti. Perché i repubblicani puntano su questo? Perché di fronte a una sconfitta sarebbe la secondo, il secondo ritiro, tra virgolette, americano da un conflitto, l'Afghanistan prima. Giacomo ha fatto riferimento alla firma della resa della Nato firmata non da Stoltenberg ma da Pompeo, quindi hanno firmato gli americani per tutti, cosa assolutamente in rituale visto che era una missione Nato, però mette bene i puntini su lei su chi comandi nella Nato. È formalmente una missione Nato, quindi si sono sentiti liberi. E la Nato è formalmente un'alleanza paritaria. Ecco, e quindi noi abbiamo un'amministrazione che si presenterebbe alle urne con due sconfitte. Nessuno può sopravvivere a una tale onta per gli Stati Uniti e pertanto gli americani si troverebbero alla via spianata. Chiunque candidino, se anche non fosse Trump, vincerebbe a man bassa le elezioni. Ecco, questa è la verità. E gli ucraini sono, come al solito, tra l'incudine. Stavo per dire un'altra cosa, ma diciamo il martello. Ok, va bene. Senti Giacomo, a proposito, è stata nominata la Nato adesso, in un paio di passaggi. È vero, qui c'è l'incognita, appunto, la grossa incognita delle elezioni l'anno prossimo che saranno un bivio vero e proprio, perché Trump è dato in vantaggio rispetto a Biden. È vero che Trump, se sarà eletto, farà uscire gli Stati Uniti dalla Nato? Lo sostiene addirittura Federico Rampini sul Corriere? Beh, scusate, ma se lo sostiene Rampini, ha Ubi Maior, Minor Cessat. È vero, senz'altro. Maior rispetto a che Minor? Giacomo, dillo, prego. No, no, ma in effetti, cioè... Non mi sembrava che facesse molto così ridere, Stefano, però apprezzo che ti sei messo a ridere. Va bene, perché vista l'autorevolezza del personaggio, che si è anche distinto ultimamente per aver dato notizie, tipo una crescita degli Stati Uniti doppia rispetto a quella della Cina e altre cose completamente, oppure l'India che ha un'economia più grande di quella della Cina, che invece è cinque volte inferiore. Quindi Rampini è quello che è, insomma. Io rimango dell'opinione che alle nostre latitudini si continua ad attribuire eccessivo spazio di manovra al ruolo di Presidente degli Stati Uniti. Molti lo giudicano una specie di imperatore, in realtà ha poteri molto ristretti, condizionati anzitutto dal Congresso, questo in maniera formale, e in maniera informale ma più incisiva, dal mio punto di vista, dai cosiddetti apparati. Per cui non esiste che un Presidente, che i Presidenti vanno e vengono. Gli apparati rimangono e soprattutto le posture in materia di politica estera, sulle quali poggia il dominio internazionale di un Paese come gli Stati Uniti, non possono essere messe in discussioni da una turbolenza congiunturale che riguarda una singola fase specifica. Gli potere. Per cui, e lo abbiamo visto, appena Trump è uscito un po' dal seminato, e non in materia di fuoriuscita della Nato, semplicemente ha cercato di far pagare di più agli europei e questo è stato il vero punto dolente, ha cercato di reclutare la Russia nel proprio schieramento in funzione anticinese. Era quello il suo disegno e lo ha pagato con una carrozzone mediatico giudiziario, letteralmente ridicolo, il cosiddetto Russia Gate. Cioè lui per tutti i quattro anni che è rimasto al governo ha avuto comunque l'immagine anche internazionale intaccata da questo procedimento che si è risolto in una bolla di sapone, era basato sul nulla, ma è stato riconosciuto anche recentemente. E questo è un segnale piuttosto chiaro di quanto i cosiddetti apparati sono in grado di mettere i bastoni fra le ruote o impedire una sostanziale alterazione della postura tradizionale di un paese. Per cui Trump potrà sbraidare, anche se l'ha messo in un concesso che voglia veramente arrivare a divenire a quel genere di risultato, cosa che non credo assolutamente, ritengo che sia, verrebbe esautorato, avrebbe messo in condizione di non nuocere dai personaggi che lo circondano dalla sua cerchia magica. Ricordiamo che lui era un non interventista dichiarato e poi si è nominato come consigliere per la sicurezza nazionale, niente poco di meno che John Bolton, un falco neoconservatore di primissimo piano, che si era ammaricato, questo l'ha riconosciuto a Trump, molto nelle sue memorie, si era ammaricato che Trump non l'ha autorizzato a sferrare un attacco diretto contro Venezuela. Qualcuno dice anche che c'era il generale Miley che aveva cercato di indurlo a sferrare un attacco all'Iran, c'è una serie di accuse incrociate, ma io non credo proprio che gli Stati Uniti possano uscire dalla Nato, figuriamoci, dovranno rimodulare e riconfigurare la struttura dell'Alleanza Atlantica sulla scia della debacle, del rovescio che stanno subendo in Ucraina, questo è fuori dubbio, ma non credo assolutamente che si arriverà a un'implosione dettata dalla fuoriuscita del suo azionista di maggioranza, figuriamoci. Non posso immaginare quanto, solo da un punto di vista meramente economico, che poi è quello a cui Trump ama guardare maggiormente, quanto abbia fruttato in termini meramente di contabilità economica l'espansione della Nato a Svezia e Finlandia in termini di acquisto di sistemi d'arma di fabbricazione statunitense e gli stessi piani di riarmo che sono stati messi in cantiere dai paesi europei sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi credo proprio che si arriverà a quel genere di esito. Certo, quindi praticamente stai dicendo che ci vogliono verificarsi di situazioni di eccezionale portata storica perché gli Stati Uniti possano disimpegnarsi dalla Nato, quindi molto ma molto a monte stai dicendo in pratica dell'eventuale volontà di Trump, ecco questo è il concetto. Stefano ti ho visto fare ampi scenni d'assenso su quello che diceva Giacomo. Giacomo ha fatto un'ottima analisi, io posso solo aggiungere che il buon Rampini fa finta di non sapere che la Nato è uno strumento totalmente al servizio degli Stati Uniti e pertanto perché mai dovrebbe uscire da uno strumento che fa i suoi interessi? Ma dico, ma che follia sarebbe mai questa? È la solita cavolata elettorale che i democratici hanno tirato fuori, come prima tirarono fuori il Russia Gate che ha citato Giacomo Pocanzi, adesso hanno tirato fuori questa butade così che solo gli imbecilli possono prendere sul serio. Oddio, non vorrei dire che Rampini sia un imbecille per carità, però lui stesso sa benissimo che è una finzione, la ripropone perché è il suo ruolo. La domanda mi viene spontanea, perché dice una cosa del genere? Perché il suo ruolo è quello di tenere, far finta di crederci per dar credibilità a questa versione e quindi mettere in cattiva luce Trump in vista delle elezioni. Ricordiamoci sempre le parole della nostra inviata a New York ai tempi, nonostante che abbiamo fatto di tutto per far perdere Trump, l'elettorato non ci ha dato ascolto e l'ha votato lo stesso. Allora che cosa serve la stampa se non influenza più l'elettorato? Eh certo, Giovanna Botteri. Giovanna Botteri. Ma perché devi fare il nome che io non l'ho fatto apposta? No, che poi hai detto appunto quello che è il nostro mantra, il mantra qui è il vaso di Pandora e la stampa fa il suo mestiere. Esattamente, Rampini anche. La stampa fa il suo mestiere che è diverso dal nostro. Ma sì, ma Trump l'unica cosa che voleva fare, come giustamente ha ricordato Giacomo, è far pagare il costo della NATO a tutti gli altri paesi. Se fino adesso gli Stati Uniti avevano da mettere in bilancio della difesa il costo delle loro basi all'estero, Trump ha detto semplicemente, signori le basi all'estero siccome proteggono formalmente i vostri interessi e la vostra difesa, non che dica fanno i nostri interessi, servono qui per tenere le zampe e gli artigli sul vostro terreno e sulla vostra politica, le pagate voi. Punto. La base in Polonia la facciamo, ma la Polonia la paga. La base in Germania, la Germania deve sborsare quanto deve alla NATO, non far finta di niente. Ecco, questo diceva Trump. Perché mai dovrebbe smettere questo discorso qua e dire che vuole uscire da uno strumento che hanno inventato proprio per stabilire e tenere gli altri legati ai propri interessi. Ma stiamo scherzando. Certo, quindi il concetto è impensabile che escono da uno strumento che è nato in funzione dei loro interessi e in questo senso ha funzionato benissimo e funziona benissimo a tutt'ora. Insomma, ecco questo. Giacomo, prego. Una sola battuta. La NATO, quando viene menzionata, quando se ne vaticina la fine, eccetera, bisogna sempre ricordare quanto disse nel 54 Lord Ismail, primo segretario generale della NATO britannico, generale britannico, disse che la NATO serve to keep the Soviet out, the German down and the Americans in, tenere i russi fuori, i russi fuori, i tedeschi sotto, gli americani dentro in Europa. Direi che questo discursus storico è la conclusione perfetta della disamina di questa puntata sulla situazione dei rapporti Stati Uniti e Unione Europea per quanto riguarda, in questa fase storica in particolare, il conflitto ucraino. Andiamo all'altro conflitto israelo-palestinese, quindi, Giacomo, sembra scontro aperto a quanto pare, almeno a favore di telecamera direi io, almeno così, sicuramente è così, tra Biden e Netanyahu. È uno scontro vero o è un po' un gioco delle parti? Allora, è un po' uno e un po' l'altro, perché indubbiamente c'è una ricaduta negativissima per gli Stati Uniti, in termini d'immagine. Per gli Stati Uniti, come dicevamo, specialmente adesso poi per un Presidente che è stato oggetto di un procedimento di impeachment, è stato approvato la Camera, non verrà dato seguito sicuramente, ma questo lo zoppa. Escludi, Giacomo, scusami, escludi che verrà dato seguito realisticamente. Figuriamoci, assolutamente no, ma questo comunque azzoppa già un personaggio già azzoppato di suo, proprio in maniera autonoma, quindi anche la credibilità di Biden è sotto zero, non può assolutamente permettersi di inimicarsi il favore della Israel Lobby, che non è solo la lobby ebraica, non sono solo gli ebrei statunitensi che premono in quella direzione, ma sono i cristiani sionisti e soprattutto quel coagulo di interessi più o meno corporativi che rema a favore di Israele, riesce comunque a condizionare le politiche sia interna che estera degli Stati Uniti e in una fase come questa inimicarsi il favore di questa potentissima lobby è estremamente rischioso per entrambi i partiti statunitensi, visto la vicinanza temporale delle elezioni. Ma questo però devono barcamenarsi tra questa esigenza, quella di vincere le elezioni, di mantenersi il favore dell'Israel Lobby e con quell'altra, cioè di non inimicarsi il favore del resto del mondo, perché qui parliamoci chiaro, l'appoggio critico che gli Stati Uniti stanno di fatto concedendo a Israele, perché possono sbagliare, sbraitare quando vogliono, ma Israele continua per la sua strada e gli Stati Uniti continuano a fornire appoggio militare con forniture senza le quali la campagna israeliana durerebbe pochissimo, perché Israele non dispone delle scorte di munizionamento sufficienti per portare avanti una campagna di quell'intensità prolungata così tanto nel tempo, né tantomeno può permettersi da un punto di vista economico, perché Israele è un paese che ha 8 milioni di abitanti scarsi e ha 300 mila riservisti, quindi sono persone che sono sottratte alla loro occupazione quotidiana, normale e quindi questo ha un impatto sull'economia del paese, prolungato nel tempo chiaramente, perché ormai sono due mesi e passa di operazioni militari, questa occupazione militare da parte di persone che vengono quindi sottratte alla loro attività civile ha una ricaduta poco sostenibile per un paese. Diciamo che Israele si regge sulle spalle degli Stati Uniti, questo è sempre più palese e questo ha tutta una serie di conseguenze di cui parleremo magari. Ma da questo punto di vista il danno di immagine per gli Stati Uniti enorme, perché è chiaro, l'opinione pubblica ormai ne è meno solo del cosiddetto sud del mondo, ma anche della stessa opinione pubblica europea, lo certificano le decine di manifestazioni che vengono indette e sono partecipatissime in tutte le principali città europee, anche ad esempio New York peraltro, a cui partecipano non soltanto i migrati musulmani o di etni araba, partecipano anche i cittadini, per così dire, autottori europei da generazioni che sono sinceramente inurriditi per quello che sta accadendo, che si configura come una mattanza con pochi precedenti in epoca recente. Per cui questo ha un danno in termini, come dicevo, di immagine che per gli Stati Uniti, i quali, come dicevamo prima, sono già alle prese con una sconfitta, con un rovescio, con un debacle di natura militare ed economica gigantesca sul campo ucraino, perché parliamoci chiaro, il resto del mondo, fatta eccezione per Rampini forse e tutti i suoi colleghi, sta vedendo l'esito di questo conflitto come il fatto che la Russia con le sue forze sta tenendo testa da un punto di vista politico, militare ed anche economico all'alleanza atlantica nel suo complesso. Questo avrà delle ricadute di termini strategici di medio periodo, perché molti cominceranno ad obitare della cosiddetta capacità di deterrenza o della stessa immagine di invincibilità, invulnerabilità che la NATO si era costruita nel corso degli anni. A questo danno di immagine e di reputazionale si aggiunge quello prodotto dalla campagna israeliana, dall'appoggio alla campagna israeliana e quindi probabilmente gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse quantomeno di mitigare, di indurre Netanyahu a più miti consigli, di qui le pressioni affinché rimuove perlomeno i due ministri più oltransisti, poi in realtà sono tre, ma i due, quelli veramente importanti, sono due, quello delle finanze, Bezalel Smotric, quello per la sicurezza nazionale, i Tamar Benvir che sono portatori delle istanze più oltransiste, pulizia etnica totale dichiarata della Palestina, si parla proprio di questo. Quindi intanto magari condurla in maniera più felpata, meno dichiarata e con metodi meno brutali, aprire qualche varco per far arrivare gli aiuti umanitari, parlavano di tregue cicliche, come se tra un bombardamento è il tappeto e l'altro, tu apri un bel varco, fai entrare un po' di materiale umanitario e tutto si risolve a terra luce e vino, hanno tentato anche di accampare questo genere di narrazione, però è evidente la difficoltà diplomatica in cui versano i voti all'ONU, qualcuno li ha visti, cioè sono rimasti solo gli Stati Uniti a bloccare le risoluzioni che richiedono il cessato del fuoco nella striscia di Gaza. Questo avrà un impatto di lungo periodo enorme, c'è poco da fare. Sì, certo. Stefano? Non vedo solo un contrasto forte, comunque discretamente forte con gli Stati Uniti, che poi fanno tanta scena e mandano continuamente un ponte aereo a portare le armi, le munizioni, le navi che scaricano in continuazione le bombe. Tra il dire e il fare c'è di mezzo non solo il, ma anche il mare in questo caso, un mare di bugie che riversano sulla popolazione mondiale, fingendo di essere preoccupati per i civili. Non lo sono affatto, tant'è che quando si sono trovati loro al posto di Israele hanno ammazzato centinaia di migliaia di iracheni o afghani, se è per questo. Quindi o hanno causato conflitti come quello in Siria, che è causato anche lì 500.000 morti. Noi abbiamo una situazione in Israele che è preoccupante per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché distruggono di fatto il costrutto del racconto che avevano fatto sulla guerra in Ucraina, con una Russia cattiva che compiva crimini contro i civili. E come fai a giustificare il fatto che in due anni non ci siano neanche 10.000 morti civili secondo le statistiche dell'ONU, secondo i dati dell'ONU, e in Palestina in due mesi e 11 giorni hanno fatto quasi 19.000 morti civili, di cui oltre 7.000 bambini. E lì non ci sono crimini o denunce da parte dell'Occidente. Di fronte al mondo, come lo giustifichi? Chi ti darà ancora retta o per chi avrai ancora credibilità quando ti presenterai a dire la Russia e i suoi crimini, bucia, queste cose qua? Mariupol e via dicendo. La vedono adesso cos'è la distruzione di una città? Non vedono solo i piani alti colpiti da cui sparavano i cecchini, vedono i palazzi abbattuti, spianati, con le persone dentro, sotto. Questo esce fuori, dalla terra mossa dai cingoli dei bulldozer affiorano i cadaveri delle persone. Questa è la verità, questo è il crimine, questo è lo sterminio che pesa sulla coscienza americana che appoggia tutto questo e pesa sull'amministrazione Biden, in quanto il suo elettorato è quello forse meno favorevole a questo tipo di operazioni, al contrario ad esempio dei repubblicani che invece so benissimo che appoggerebbero in tutto e per tutto questo tipo di operazioni. E quindi noi abbiamo sempre una debacle legata alle elezioni che vede quindi Biden cercare di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, non perdere l'ultimo alleato che hanno in Medio Oriente e allo stesso tempo cercare di salvare la faccia. Non ce la fa, non ce la fa assolutamente. I contrasti maggiori però Netanyahu non li ha con gli Stati Uniti, li ha all'interno. Le dichiarazioni recenti di Olmert in un'intervista che ha rilasciato a Sky sono pesantissime, invita chiaramente con un'analisi anche bella e lucida Netanyahu ad andarsene perché il suo tempo è finito, con lui non ci potrà mai essere una soluzione a questo conflitto. Poi non diciamo sull'opinione pubblica israeliana quanto abbia pesato il fatto che il suo esercito che è lì formalmente per liberare gli ostaggi ne abbia ammazzati tre che erano con la bandiera bianca torso nudo per far vedere che non avevano armi esplosivi e gridavano in israeliano e sono stati freddati perché incredibilmente li hanno scambiati per dei civili palestinesi e quindi li hanno uccisi. Questo per dire gli ordini che hanno impartito all'esercito. Quando Netanyahu disse, ricordiamocelo bene, non ci saranno accuse ai soldati per ciò che dovranno fare per liberare gli ostaggi e questo lo vediamo. Ammazzano chiunque, ma è finita che hanno ammazzato anche loro. L'altro oppositore di Netanyahu interno è l'altro candidato delle elezioni, Giacomo aiutami un attimo, Lapid, che anche lui ha detto voglio le elezioni subito anche in tempo di guerra perché Netanyahu non ha più il sostegno della popolazione, non ha più la fiducia della popolazione e ci vuole invece un governo che abbia la fiducia in questo momento della popolazione per poter andare avanti e fare delle scelte, perché sono fondamentali, ma lo capiscono probabilmente anche loro che non perdendo eventualmente gli Stati Uniti, autorevolezza e un'immagine che incuti timore nel mondo, chi difenderà Israele con i crimini che sta commettendo? Come ha detto giustamente Giacomo, sono solo rimasti gli Stati Uniti a votare contro nelle risoluzioni. Se la loro autorevolezza cala ulteriormente e capiscono di dover abbandonare questa posizione, non c'è più nessuno che è disposto a spendersi per difendere dei criminali. Chiarissimo. Giacomo, Stefano dice che Israele non deve temere all'esterno, cioè Israele, Netanyahu non deve temere all'esterno, ma i rischi sono al suo interno. Israele è una società molto frammentata, lo è da molto tempo, ma nel corso degli ultimi tempi, non mi riferisco agli ultimi mesi, mi riferisco agli ultimi anni, soprattutto dal 2002-2003 in poi, si sono aperte delle fratture molto vistose, molto profonde e molto larghe in una società israeliana, per esempio con l'avanzata degli ultraortodossi, che sono un'entità piuttosto variegata, ma non fa il servizio militare e in buona parte dei casi, non sempre, è portatrice di una visione estremamente radicale della società, di carattere religioso, quindi pulizia etnica, ma anche l'applicazione della LACA, la legge ebraica, provvedimenti come la definizione, quello autorizzato poi dalla Corte Suprema, certificato, nel 2018, cioè Israele è stato degli ebrei, è un rischio, significa porsi su una china molto rischiosa, perché tu definisci Israele è stato degli ebrei con due e passa milioni di israeli, di arabo-israeliani, che non sono ebrei, in maggioranza, larghissima maggioranza, quindi questi cosa sono di preciso? Potrebbero percepirsi come una sorta di cittadini di seconda categoria e magari dar luogo a episodi come la rivolta del 2021, sono due milioni, non sono pochi, quindi c'è questo rischio di… e poi c'è tutto i segmenti della società civile, per esempio quelli che si riconoscono nelle posizioni di Lapid, di Bennett, oppure anche se sono sempre più minoritari, i laboristi, non condividono questo andazzo che sta prendendo il governo con provvedimenti di natura religiosa, con Netanyahu che parla apertamente della profezia di Amalek, per la profezia di Isaia, per incitare i propri concittadini allo scatenamento dei propri istinti peggiori, questo l'ho scritto non io, ma Omer Bartow, che è uno storico israeliano docente presso a Brown University, quindi negli Stati Uniti, che ha scritto un editoriale sul New York Times in cui diceva che io si diceva molto inquieto per la retorica che stava adottando il governo israeliano nel sostenere questo genere di operazione così brutale, perché quando si caricano i soldati e i ufficiali chiamati a porre concretamente in essere queste operazioni militari di frasi così inquietanti, stermineremo coloro che ci vogliono, sono cose che potrebbero portare a degli esiti veramente catastrofici, questo per un verso, quindi ci sono fratture di natura interna, ma queste fratture secondo me Hamas le ha intraviste, Hamas o chi per lui le ha intraviste e credo che l'operazione militare punti proprio su quello, noi sappiamo che Israele rimane pur sempre una società guerriera, ma una società dai tratti sostanzialmente occidentali in molti suoi aspetti e in tutto l'Occidente si assiste ormai da decenni a una crescente incapacità di accettare perdite tra i propri militari, questo è un dato di fatto l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti che sono un paese che fa sostanzialmente la guerra da sempre, ma che soprattutto ogni volta che capitavano dei morti in Afghanistan o in Iraq si accendevano dei segnali di malumore molto palesi all'interno della società statunitense. Io credo che l'emersione dei dati, tutt'altro che rassicuranti, che sono stati forniti non dalle autorità israeliane, perché le autorità israeliane hanno molto minimizzato i danni, ma da quotidiani come Rez o Idiot e Aronot che hanno incrociato i dati forniti dalle autorità israeliane con i registri ospedalieri e sono emersi che il numero dei morti e dei feriti è molto superiore a quello riconosciuto dal governo, questo potrebbe avere due effetti. Inimica ulteriormente il favore della popolazione, un governo che è già fortemente oggetto di contestazioni, come diceva Stefano, e secondariamente potrebbe aprire una crisi interna, perché ci sono delle componenti interne della società israeliana che non apprezzano affatto la piega che abbiano preso gli eventi da un punto di vista militare e che potrebbero non accettare, non essere pronti a sostenere quel tributo di sangue che il governo sta richiedendo loro per portare a termine quella che il governo stesso bolla come una sfida di carattere esistenziale allo Stato israeliano. È una sorta di Vietnam per Israele dal mio punto di vista. Abbiamo visto che come in Vietnam, chiaramente i paralleli istolici sono sempre scivolosi, ma infatti io dico negli esiti ultimi, noi in Vietnam abbiamo visto una forza molto meno dotata di mezzi tecnologici, sostanzialmente in ciabatte, ma fermamente motivata e ben diretta, riuscire ad avere la meglio su un esercito incommensurabilmente più avanzato da un punto di vista tecnologico, meglio armato etc., ma non strettamente sul campo di battaglia, hanno inflitto una sconfitta soprattutto di carattere politico e motivazionale, perché sono riusciti ad aprire, a individuare i cunei esistenti nella società statunitense, si sono inseriti in questi cunei e sono riusciti a mettere la popolazione statunitense contro il governo statunitense, a isolare gli Stati Uniti dai loro tradizionali alleati e l'hanno via via privati attraverso le decine di migliaia di morti che venivano a determinarsi, ma erano sempre enormemente inferiori rispetto a quelle subite dai vietnamiti, si parla di 50-60 mila morti statunitensi per un milione e passa di vietnamiti uccisi e ciò nonostante questo ha privato gradualmente la società statunitense della volontà di continuare a combattere. Questo potrebbe essere l'esito finale di una battaglia così rischiosa come quella che ha condotto Netanyahu e io credo che il fatto che condurla sia lui e questo è stato giustamente evidenziato da personaggi come Lapid sia molto rischioso, perché una parte piuttosto considerevole della società israeliana rischia, probabilmente sarà portata a ritenerla come una crociata personale che Netanyahu sta portando avanti per salvare la propria parte anatomica collocata sotto la schiena e per rimanere sostanzialmente fuori di galera e questo è un rischio enorme, quindi Netanyahu che è un politico navigatissimo dovrebbe rendersi conto di questo genere di pericoli che alleggiano su questa sua operazione militare. E certo, si vede che accetta anche i rischi estremi anche a livello personale. Stefano ti senti di fare una chiosa proprio più sintetica possibile perché volevo passare al prossimo e ultimo punto, una chiosa a questa pregevolissima analisi di Giacomo? Sicuramente le divisioni interne alla società israeliana sono andate aumentando in questi anni in cui c'è una spaccatura netta ad esempio tra la parte laica della società e quella religiosa ortodossa in quanto gli ortodossi hanno agevolazioni fiscali e per i figli sono molto molto fertili da questo punto di vista, hanno molti figli, hanno una crescita demografica superiore a quella delle altre, addirittura superiore agli arabi israeliani, non sono tenuti a fare ad esempio il servizio militare, sono esentati, questo ha creato diverse spaccature perché poi chiedono la difesa ad esempio delle colonie, però non lo fanno come soldati da questo punto di vista. C'è una società spaccata, i contrasti fortissimi erano evidenti, vi ricordate le manifestazioni di piazza, il nervosismo delle forze dell'ordine che avevano addirittura massacrato di botte gli israeliani di origine etiope che protestavano per le condizioni in cui sono tenuti, c'è anche questo aspetto da tenere presente che non tutti gli ebrei in Israele sono ritenuti uguali tra di loro. È una società che sta mostrando delle crepe come mai prima d'ora c'erano state. La forza di Israele è sempre stata di fronte agli altri il fatto di essere una società unita forte di fronte all'avversità, potrebbe anche darsi che quel tempo sia finito e che le divisioni interne stiano pesando maggiormente. Più sul fatto che Netanyahu abbia cavalcato questa campagna così cruenta, così violenta per coprire le proprie mancanze. Ricordiamo che la divisione Gaza era stata spostata proprio dal governo Netanyahu verso la Cisgiordania a protezione delle colonie illegali che Netanyahu ha sempre sponsorizzato negli anni scorsi e quindi li aveva portato lì indebolendo le difese attorno alla striscia di Gaza e questo pesa su di lui e sa benissimo che se non risolve la situazione questo gli verrà imputato pesantemente ecco e quindi tutta questa manovra probabilmente cerca di coprire le sue mancanze ma sta aggiungendo una toppa che è peggio del buco. Vedremo anche su questo seguiamo tutte le settimane lo sviluppo di questa situazione sarà molto interessante seguirla ancora. Volevo trattare un ultimo argomento con voi, una notizia, un risultato molto significativo già con le elezioni in Serbia che hanno registrato ieri una amplissima vittoria di Aleksandr Vucic che è leader del partito del progresso serbo. Ha preso il 47? Esatto, vittoria addirittura al di là tra l'altro dei sondaggi ha doppiato, letteralmente doppiato il partito della Serbia contro la violenza della premier Abba Brnabic. Si avvia verso una maggioranza assoluta a quanto pare in Parlamento. Molto interessante risultato, no? Beh sì, Vucic è un vecchio volpone della politica, è un personaggio che ogni volta che subisce contestazioni, benissimo, mi dimetto, andiamo a lezioni, vediamo come la vede il popolo e prende sempre più voti di prima. In queste elezioni erano particolarmente importanti, ricordo che l'ex delegato degli Stati Uniti per la Serbia aveva parlato proprio dell'importanza non solo per i serbi ma per l'intera regione di queste elezioni, quindi c'era grossa attenzione e c'era, è significativo che queste elezioni fossero anticipate, siano state anticipate da un numero record di allarmi bomba che si erano registrati in tutta la zona, tutta la Serbia e quindi soprattutto nelle zone a ridosso del confine con il Kosovo, insomma, sempre prima delle elezioni agitare un po' le acque. L'idea qual è? L'idea era stata sempre di appoggiare le componenti ostili a un governo che nonostante tutto si era mantenuto un po' democristianamente a galla, riuscendo a barcamenarsi tra le molte difficoltà in cui il paese si trova ad affrontare, perché la Serbia non ha sbocco al mare, è circondato da paesi che appartengono all'Unione Europea o sono alleati dell'Unione Europea e è costantemente tenuto sotto ricatto sia per le sanzioni che non ha imposto alla Russia e quindi l'Unione Europea richiede che le applichi anche se la Serbia non fa parte dell'Unione Europea, sia perché riconosca la sovranità kosovara, la sovranità di Pristina sul Kosovo, quindi riconosca l'indipendenza del Kosovo, una cosa che nessun leader serbo che con un minimo di aspettative di carriera o anche di sicurezza personale direi può permettersi di fare perché la popolazione lo travolgerebbe letteralmente. Quindi Vucic sa benissimo qual è un personaggio malleabile ma politicamente molto acuto, che riesce a mantenere il favore di gran parte della popolazione, riesce a, un po' come Orban, riesce a gestire le difficoltà in cui un paese è tutto sommato di dimensioni ridotte, come Serbia nel caso di Vucic, l'Ungheria nel caso di Orban, ma comunque riesce anche a tenere testa alle molte pressioni che subisce e mi pare, dal mio punto di vista, queste elezioni non fanno che rafforzare lui e inebolire le posizioni di coloro, parlo soprattutto della von der Leyen, ma non solo, anche gli ambienti statunitensi che cercavano di disfarsi di un politico che a quanto pare non è assolutamente controllabile dall'esterno. Quindi questo è un bilancio della situazione che mi pare di poter tratteggiare. Ecco, un messaggio secondo me, una lezione che può anche arrivare da queste elezioni, chi pur essendo in un territorio dell'Europa geograficamente, però è fuori dall'UE, non ha voglia di entrare nell'Unione Europea. Può essere letta anche così Stefano, questo risultato? Beh, sappiamo tutti che la componente legata a Vucic… Forse è finito, vediamo. C'è un audio per dirsi? Sì, c'è qualche cosa… vabbè, adesso non c'è più. La componente politica legata che sostiene Vucic non è sicuramente quella favorevole all'ingresso della Serbia nell'Unione Europea. Vucic adesso è forte per tenere le sue posizioni anche di fronte ai ricatti eventualmente dell'Unione stessa, perché ricordiamo di ricatti si tratta, e quindi può portare avanti le sue istanze, che sono riguardo il Kosovo, che citava prima Giacomo, la difesa della popolazione serba di questa regione, che troppo velocemente è stata ritenuta indipendente dalla Serbia senza tener conto delle effettive esigenze della popolazione serba, che non può e non vuole convivere con un governo a guida differente da quella del loro paese. La stessa lotta che hanno fatto per mantenere le targhe, le iscrizioni delle strade e quant'altro nella loro lingua e legate alla nazione serba, lo dicono ampiamente, se si è accettata l'uscita, il distacco del Kosovo dalla regione serba, si dovrà alla fine accettare l'uscita della zona del Kosovo, della parte di Kosovo abitata in maggioranza dai serbi e non solo, ma anche la parte quella che riguarda tutti i monumenti legati alla storia della Serbia, dovranno tornare alla Serbia e il Kosovo, dove ha una maggioranza invece di etnia albanese, sceglierà cosa fare. Alla fine delle fine è questo, la vittoria di Bucic così forte, così sonora, tra altre cose notiamo che anche qui al contrario hanno funzionato male nuovamente i sondaggisti, perché di solito esagerano il successo di qualcuno, che poi fa un mezzo fiasco, oppure abbassano, come in questo caso, l'eventuale successo scomodo per l'unione, e di nuovo anche in questo caso hanno sbagliato. Ma perché fanno il loro mestiere? Fanno il loro mestiere, esatto. Ecco, che non è quello di fare i sondaggi in realtà, formalmente è quello di fare i sondaggi, in realtà di condizionare comunque, infatti i sondaggi non bisognerebbe mai farli, perché è uno degli strumenti più importanti e più efficaci anche di condizionamento delle pubbliche opinioni. Gli sondaggi non dovrebbero mai essere fatti. Complimenti quindi a Bucic che ha vinto due battaglie, l'una contro i suoi avversari politici e l'altra contro l'Unione Europea. Con l'analisi delle elezioni in Serbia di ieri, la vittoria di Bucic, chiudiamo il nostro appuntamento consueto del lunedì. Io ringrazio Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Ricordo il canale, il contesto, il canale YouTube, il contesto di Giacomo, che pian piano comincia, pian piano, mica tanto pian piano, comincia a avvicinarsi ai 10.000 iscritti. Congratulazioni vivissime. E grazie a Stefano Orsi, allora per qualcun dico cito il canale YouTube di Stefano, che si chiama Stefano Orsi. E questo è il nostro ultimo appuntamento prima di Natale, quindi io ne approfitto per farvi gli auguri. Auguri a Giacomo, auguri a Stefano. E noi ci vediamo comunque molto presto. Contraccambio gli auguri. Auguri a tutti. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.